Puntare su maggiori politiche di integrazione è più strutturate, ma anche più aiuti alle famiglie numerose straniere, progetti per le seconde generazioni di straniere ormai capillarmente presenti in città e provincia e la possibilità di mettere a disposizione appartamenti sfitti. Sono alcune delle richieste provenienti dai rappresentanti delle comunità straniere presenti a Piacenza, alcune davvero numerose, che sono state espresse nel corso della puntata di fuori sacco di ieri sera. La trasmissione, condotta dal giornalista Michele Rancati, ha messo sotto i riflettori le istanze prioritarie di queste comunità che si sono tradotte nel consueto manifesto che finirà all'attenzione dei candidati a sindaco. Ecco uno dei consigli che è arrivato nel corso della trasmissione più importanti. Fino adesso c'è stata molta sensibilità delle giunte precedenti e anche questa uscente su tutte le politiche di integrazione dal mio punto di vista. Penso che bisognerebbe investire, cercare di elaborare sempre più progetti per i figli, per i giovani, per quello che noi chiamiamo seconde generazioni, che sono ragazzi che o sono nati in Italia o sono arrivati in Italia con un ricongiungimento familiare, che hanno delle difficoltà diverse. Le repliche di fuori sacco andranno in onda domani alle 17.30 e alle 23, sabato alle 11 e alle 20 e 30, domenica alle 20.